Il Ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, oggi in Prefettura ha sottoscritto con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il protocollo d'intesa per l'attivazione del numero unico di emergenza europeo. Chiamando il 112, si potrà richiedere quindi l'intervento della Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle strutture sanitarie e dell'assistenza in mare. Nel pomeriggio il Ministro andrà anche alla stazione marittima per il forum espositivo della valorizzazione dei beni confiscati. Il Ministro, pochi giorni fa, aveva dichiarato durante un question time alla Camera che in relazione all'aumento degli episodi di violenza ci sarà una maggiore attenzione sulla movida anche nella città di Napoli, procedendo a consistenti integrazioni di personale delle forze di Polizia. Con il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Ministro si è poi soffermato sugli strumenti di prevenzione per impedire le infiltrazioni della criminalità negli appalti finanziati con i fondi del PNRR.